Per fare parte dell'organizzazione, in particolare della giuria, un incontro e una storia, è un grande onore. Confrontarsi con i materiali che animeranno, di soggetti plurini, che scrivono di sé degli altri e della loro vicenda umana, è una grande responsabilità. Costruire, ricostruire la storia personale degli altri, creare questa catena, agganciarsi agli altri attraverso le storie, oramai è un imperativo categorico di tutti i saperi che sono in atto, sia nella scuola che nell'esta scuola. La catena umana delle storie è l'unica grande via per poter ricostruire la storia umana in questo momento molto cariglioso, molto incerto e anche molto doloroso.